Sindaco Frattaroli, lavori previsti a Basciano, i prossimi che partono intanto proprio qui vicino a noi la messa in sicurezza della scuola elementare. Sì, la messa in sicurezza sismica della scuola elementare partirà appunto già è stata appaltata e partirà subito dopo la chiesura delle scuole ma partirà anche, contiamo di far partire entro l'estate o all'inizio dell'ottunno anche la costruzione di un nuovo asilo nido con fondi PNRR la demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia con fondi sempre PNRR e anche nei prossimi giorni partiranno anche i lavori per la riconversione dell'edificio, di un edificio a Zampitto appunto per ospitare i ragazzi, i bimbi della scuola dell'infanzia in attesa della costruzione della nuova scuola ma partirà anche già stata appaltata e partirà a breve anche la realizzazione dell'ampliamento del cimitero ma partirà anche sempre nelle prossime settimane l'allargamento di una strada importante a Brecciola, via Montegiove dove è previsto l'allargamento della sede stradale e anche un miglioramento appunto della viabilità con fondi della regione. Sindaco, spesso voi amministratori fate riferimento ai fondi PNRR ma si riuscirà a spenderli in tempo entro il 2026? Sì ma c'è un'importante scadenza adesso a giugno anche della consegna dei lavori da un punto di vista quindi trovare, concludere le gare per l'affidamento dei lavori noi devo dire che siamo, ecco grazie all'impegno degli uffici, che ringrazio siamo stati bravi perché siamo riusciti a finire, a terminare i progetti già ed approvarli i primi giorni di maggio e adesso sono in corso le procedure di gara per l'affidamento che si concluderanno nelle prossime settimane così da poter affidare i lavori già entro giugno e poi partire con i lavori e concludere le tempistiche sono davvero molto stringenti e molto strette per questo gli uffici in questi giorni sono impegnati in maniera importante per rispettarle